Non mi pare un caso che molti interventi abbiano tirato fuori gli anni del freddo, gli anni 80, gli anni 90, sia perché molti lo abbiamo conosciuto attraversando il freddo, attraversando quegli anni, sia perché forse alcune delle cose che Tony ci lascia diventano più evidenti e più importanti quando attraversi le gelate. Nel mainstream Tony passa per un ottimista, è uno strano ottimista uno che ha scritto le sue cose principali su Giobbe e su Leopardi. È evidente che dentro l'ottimismo così mainstream c'è la tensione di un pensiero che ha cercato di attraversare le gelate. Diciamola così, per chi si affacciava alla comprensione del mondo del momento in cui non solo erano finite le lotte degli anni 70, ma alla fine delle lotte degli anni 70 era stata assunta come un orizzonte generale che definiva le possibilità dell'agire stesso. Chi è arrivato negli anni 70, negli anni 80, non solo si è sentito raccontare che le lotte erano finite, ma si è sentito raccontare che era semplicemente follia interpretare la storia come qualcosa su cui la soggettività poteva avere presa sul tempo. Potevi fare di tutto, ma non potevi pensare la temporalità e l'evento, ma non potevi pensare la storia. Potevi pensare, se fossi stato critico, potevi pensare la desoggettivazione, la critica nel senso del margine, della critica di ogni soggettività data. Potevi divertirti in qualsiasi impresa nichilistica, ma quello che non potevi pensare è che potesse esserci una possibilità delle soggettività di far presa sulla storia. La sconfitta diventava un orizzonte metafisico per tutti, per chi accettava il presente, ma anche per chi voleva ribaltarlo, che si trovava come unica scienza la possibilità di una posizione critica letteralmente estremistica, cioè collocata sull'estremo. In quel periodo là il pensiero di Tony diventa una grande possibilità di resistenza contro l'unica carta che ci avevano lasciato, che era quella nichilistica. Il pensiero di Tony è stata una bussola contro l'accettazione del nichilismo, contro l'accettazione del nichilismo come orizzonte complessivo di senso. Quello su cui si stanno insistendo molti, la relazione da un lato e dall'altro lato la lotta contro la trappola dell'identità, i processi contro l'identità, erano le due grandi, e sono le due grandi bussole antinichilistiche. Uno, pensare la relazione, significa che non puoi pensare la totalità, lo diceva prima Alberto, fra le varie cose. E questo è il momento in cui attraversi il deserto è assolutamente importante immaginare, non ottimisticamente, che il deserto stia lì per finire, ma che il deserto non è l'unico orizzonte possibile che completa la tua comprensione del mondo. Il resto è che la relazione non si apre mai come relazione dell'identità fisse. E questo per chi attraversa il deserto è importantissimo, perché nel momento in cui ti lasciano la povertà, ma ti tolgono la possibilità storica di pensare la trasformazione, quello che ti resta in mano è l'identità. Quando tu attraversi un deserto, senza che ci sia la possibilità di trasformare la povertà materiale e quella delle relazioni, in resistenza effettiva e trasformazione, quello che ti resta è l'identità. E l'identità diventa la trappola, non dei malvaggi, ma di chi ha ancora forza di resistenza. Spesso Negri ci ha richiamato alle forme perverse del comune, non alle opposizioni del comune. L'identità funziona anche come forma perversa del comune. Nel nichilismo il fascismo diventa una forma perversa del comune, non il tutt'altro. Avere queste armi antinichilistiche, la relazione da un lato, la rottura delle trappole dell'identità dall'altro, era la bussola per l'attraversamento degli anni 80 e 90, per guardare nei dispositivi quello che non appartiene al dispositivo. Ora però, ed è quello che ci resta da pensare, la relazione lì è sempre stata pensata, dentro quel quadro di pensiero, come una relazione in fondo simmetrica, il progressismo a cui alludeva un po' Francesco. Una relazione in cui potere e resistenza, lasciamo perdere chi viene prima o dopo, ma comunque ristabilivano comunque un certo rapporto. Ora Negri ha pensato un'altra situazione in cui la relazione si ricostruisce non dentro la misura, ma dentro la dismisura soggettiva. Quando non c'è più una misura ad assicurarti che la relazione regga nel ritmo delle cose. Fino a quando il capitale ha funzionato secondo il ritmo delle cose, resistenza e capitale, andavano comunque a braccio nell'assicurarsi una certa qual misura del progresso. Nel passaggio dagli anni 70 agli 80, nel passaggio al post-fordismo dispiegato, quello che salta non è la relazione, è la misura della relazione. Il grido di Giobbe è la dismisura di chi dice misura dovrebbe esserci, ma misura non c'è. E questa è stata la tenacia di non abbandonare un pensiero della relazione, di vederlo anche quando le figure soggettive erano diventate mostruose. Quando questo ritmo della relazione tra lotta e progresso si era interrotto. E questo oggi diventa un passaggio da ripensare tutto. Perché se è vero che nei nuovi movimenti globali si rifiuta la totalizzazione, ripartono dentro una logica in cui la lotta può incidere, può diventare storia, è anche vero che noi ci muoviamo in un campo in cui nessuna misura è più data della relazione. Non a caso il movimento femminista globale nasce fronteggiando sì l'emersione della riproduzione sociale come centrale, ma anche la violenza come interruzione continua di questa affermazione della riproduzione. Il movimento ecologista nasce da un lato dalla urgenza di riaprire la prospettiva della trasformazione, ma dall'altro dal fatto che la catastrofe, cioè l'assenza della possibilità di ogni misura, entra nell'esperienza personale. E questo non lo trovi in nessun pensiero di sinistra progressista. Tu nei pensieri della sinistra trovi che all'assenza di misura o si risponde con la resa, il nichilismo, la catastrofe, l'assenza, o si risponde negando il salto e la dismisura. Tony è riuscito a pensare fino alla fine la possibilità e la sfida di dare misura, ritmo e organizzazione a un'esperienza che è uscita out of joint, che ha perso i cardini della misura e della relazione. Questa era la sfida della mostruosità della moltitudine. E questo è quello a cui siamo richiamati. Dare un'organizzazione, una capacità di durata ad un'esperienza politica che nasce quando sono bruciati tutti quei ritmi di regolarità, di capacità di dare tempo e ritmo al nostro agire politico che ci consegnava la tradizione. E questa è stata questa esperienza e questo è quello che noi avvertiamo. Forse è per questo che quei tre libri dell'autobiografia si chiamano storia di un comunista, perché bisogna pensare assieme l'essere comunisti, lo stare nella lotta e nella relazione con la fine della possibilità di pensare quella relazione come l'ha pensata il movimento operaio. Negri è stato questo, la fine di quella storia e contemporaneamente la necessità di pensare la lotta di classe dopo la fine di quella storia ordinata e misurata della lotta di classe. Noi, eredi senza eredità, stiamo dentro questa situazione. Ma forse è questo che l'ha fatto parlare fino all'ultimo con le esperienze dei nuovi movimenti globali. proprio perché sono le esperienze della tentativo di dare organizzazione a una forza soggettiva che organizzazione non ce n'è, che misura di quella soggettività non ce n'ha, che misura di quel tempo non ce n'ha. E però la possibilità di dare forma a quella dismisura è stata la sfida che noi dobbiamo, che abbiamo in mano e che ci ha lasciato. Grazie.